I nostri geni sono arrotolati nelle cellule in una struttura complessa di proteine e DNA chiamata cromatina. Senza questo sistema di condensazione del DNA, che può essere rappresentato come un gomitolo di lana, non sarebbe possibile mettere i due metri di filamento del DNA nel nucleo di ogni cellula. I nostri geni sono gli stessi in tutte le cellule del corpo. Ciò nonostante, l'attività di questi geni è diversa in cellule del naso rispetto a cellule del cervello. Il nostro corpo regola l'attività dei geni accendendoli o spegnendoli, come se accendesse o spegnesse tante lampadine. Si potrebbe comparare tutto il nostro DNA a un libro nel quale solo le cellule del naso sono capaci di leggere il capitolo sul naso, mentre solo le cellule del cervello sono capaci di leggere il capitolo sul cervello. Esistono diversi modi per rendere alcuni capitoli del libro del DNA illegibili. Una possibilità consiste nel legame di piccoli segni chimici chiamati gruppi metilici al DNA. Come hai già visto nel capitolo I cromosomi sono dei filamenti di geni, il nostro genoma è composto dalle lettere A, C, G e T. I gruppi metilici possono essere legati alla lettera C e funzionare come una sorta di colla. I geni incollati restano impacchettati e chiusi e non possono più essere letti dal macchinario che produce l'RNA. Questi geni sono dunque diventati inattivi. Alcune proteine sono in grado di sciogliere questa colla e possono quindi riattivare il gene precedentemente inattivato. Il capitolo in questione diventa pertanto nuovamente leggibile. L'effetto epigenetico può essere facilmente osservato nei gatti femmina del tipo pezzato o squama di tartaruga. Il gene responsabile del colore della pelliccia, arancione o nero, si trova sul cromosoma X. All'inizio dello sviluppo embrionale, gli embrioni femmina spengono un intero cromosoma cromosoma X per far sì che la dose genetica dei geni presenti in quel cromosoma sia la stessa tra maschi e femmine. La copia del cromosoma X spenta è determinata casualmente in ogni cellula. Conseguentemente, solo uno dei due geni per il pelo, quello nero o arancione, sarà attivo in ciascuna cellula della pelle della gatta. Così le gatte pezzate generano il proprio motivo arancione-nero personale.